Buonasera signori e bentornati in questo nuovo video aggiornamento. Video molto interessante signori, apprendiamo da questo titolo Conte si arrende, niente proroga. L'emergenza finirà il 31 luglio, Trump ha fermato Giuseppi e il Deep State italiano. Quindi ecco, in questi ultimi giorni si sente sempre più parlare di proroga sì, proroga no, verrà prorogato questo stato di emergenza. Ecco, sembra che Trump abbia messo un freno ai cari Giuseppi. Ok, vediamo un attimino di che cosa stiamo parlando. La notizia è di poche ore fa, nessuna proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre, nessuna proroga dello stato di emergenza fino al 31 ottobre, ma proroga fino al 31 luglio, come era stato già stabilito a gennaio quando è stato annunciato lo stato di emergenza per sei mesi. Va bene, facciamo un passo indietro per capire cosa è successo. Qualche giorno fa Conte aveva parlato di voler prorogare lo stato emergenziale che gli avrebbe permesso di gestire il paese con i suoi assurdi DPCM fino a fine anno. Subito si è sollevata la protesta, soprattutto di autorevoli scienziati come il professor Zangrillo, che hanno smascherato il conte dittatore. Come fai a prorogare l'emergenza? Se l'emergenza, da intendersi come un virus in grado di riempire gli ospedali, è finita tre mesi fa e lo stesso virus è mutato in una forma più debole, allora lo fai solo per questioni di potere. Con le spaglie al muro, il conte Giuseppe ha cercato di resistere affermando che la richiesta che gli era pervenuta dai virologi del suo clan di scienziati, ma non ha fornito i nomi dei richiedenti, e poi ha giocato la gatta del compromesso. Proroga fino al 31 ottobre. Non è servito perché nel frattempo Trump, il presidente USA, probabilmente si è mosso per impedire che si consumasse in Italia un secondo colpo di Stato. E attenzione al probabilmente, signori. Prendiamo queste notizie con le pinze, perché di ufficiale al momento non c'è ancora nulla. Nei giorni scorsi vi avevamo anticipato in un video i malumori di Washington sulle ultime cazzate di Giuseppe, tra cui i continui avvicinamenti al governo cinese. Trump aveva fatto intendere di essere contrario alla proroga, fino al punto di essere pronto, se necessario, a difendere il popolo italiano. Gli USA in Italia hanno oltre 20.000 soldati, forze speciali, carri armati, aerei, eccetera, contro un governo lontano anni luce dai bisogni del popolo e dei cittadini. E oggi Conte si è dovuto arrendere anche perché in Europa le cose gli stanno andando molto male con figuracce continue tra mess, recovery, found e diktak di tedeschi e olandesi. Anziché presentarsi lui, ha preferito mandare il suo ministro della salute, il fanatico dei vaccini, Roberto Senza Speranza, che con tono molto, molto arrabbiato, ha affermato che il nuovo DPCM prorogherà l'emergenza fino al 31 luglio. In realtà lo stato di emergenza era già stato fissato con scadenza al 31 luglio. Ma pochi ci hanno fatto caso, poiché alcune delle misure emergenziali specifiche terminavano di avere effetto due settimane prima, quindi esattamente il 13 o il 14 luglio, quando insomma è stata fatta la proroga, per essere precisi. Chissà se ha letto le ultime notizie sul suo vaccino, il dottor Speranza. Quelli di, anzi, sono senza Speranza, senza dottor, quelli di AstraZeneca hanno affermato che non blocca il contagio. Attenzione signori, leggiamo questa frase. Quelli di AstraZeneca hanno affermato che non blocca il contagio, che ci sarebbe bisogno di più tempo, che è meglio distribuirlo senza sperimentarlo. Avete capito la gravità di queste affermazioni? I signori vorrebbero mettere in commercio un vaccino senza la sperimentazione. Quindi non si sa se questo vaccino farà bene, farà male, se creerà dei danni reparabili, se sarà innocuo, se sarà inutile farlo. Non si sa niente. Senza sperimentazione non possiamo sapere se questo vaccino funzioni o no. Non è da escludere che Trump abbia chiamato Mattarella per ricordargli che l'Italia è cosa americana e che è arrivato il momento di finirla con Giuseppe e le sue ambizioni da dittatore dei poveri. Allora signori, video bomba, vi invito a condividerlo, veramente lasciate pollicione così facciamo capire a YouTube che questo contenuto è interessante per la maggior parte degli utenti che lo guardano. Datemi una mano a condividere queste informazioni, condividetelo ovunque e a brevissimo, tra oggi e domani, pubblicheremo un altro video molto interessante che è quello dell'Unione Europea che stanno cercando di commercializzare, appunto, di poter far commercializzare questo vaccino senza la sperimentazione. Questa è una cosa gravissima, signori. Un caro saluto, un abbraccio da tutti, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!